La notizia ha scosso la politica a livello nazionale. È scomparso all'età di 86 anni Silvio Berlusconi, che da tempo combatteva con un grave problema di salute. Inevitabili le reazioni a livello locale, in primis quella del presidente del Veneto Luca Zaia, ministro dell'agricoltura nel quarto governo Berlusconi. Ci lascia un uomo che ha scritto la storia recente della politica italiana, commenta, un pioniere nel campo dei media, in particolare della televisione e della pubblicità. La quarta e ultima legislatura berlusconiana portò con sé anche un importante lascito per il bellunese, ovvero il Fondo Brancher, dal nome dell'allora ministro per la sussidiarietà e il decentramento, destinato a evolversi nell'attuale Fondo Comuni Confinanti, oggi presieduto da un ex membro di Forza Italia, ovvero Dario Bond. Un ricordo di Berlusconi arriva anche da un sindaco di seconda fascia e coordinatore del partito a livello provinciale, ovvero Dario Scopel. Dopo il disgregamento della Prima Repubblica, ricorda, con Forza Italia e il popolo delle libertà, Berlusconi ha dato in particolar modo una casa ai moderati, individuando un'area di riferimento politico estremamente importante, sia a livello nazionale che a livello locale, anche nel bellunese. Io credo che la morte di Berlusconi non sia una buona notizia per la politica italiana, perché comunque è stata persona, anche se molto discussa, ma sicuramente uno che ha dato davvero tanto del suo per il bene della nazione. Questo io lo credo proprio in maniera sincera.